E' stata inaugurata la presenza delle autorità e del Presidente regionale di Confesio Centri sotto lo stesso cielo 2013, solidarietà e convivenza, tradizionale appuntamento di fine estate ingresso al libro promosso dalla Confesio Centri di Trieste, dedicato ai temi della multiculturalità, trattati attraverso musica, ristorazione a base di piatti tipici e mercato multietnico, film, dibattiti interculturali e tavole rotonde. La manifestazione è in programma fino al 8 settembre e ha visto, oltre alle autorità presenti, anche Maurizio Tremur, Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Croazia e Slovenia e della Mostra delle Letterature e Tribe Identity, che propone una riflessione sul rapporto tra nazionalità e territorio geografico istriano. L'Istria per secoli terra demara all'epoca della Serenissima, che consentì le sue molteplici lingue e culture al libro sviluppo, ferma Maurizio Tremur, ritorna a far parte di quell'Europa unita a cui appartiene. Archiviato per sempre nel novecento le sue violenze e contraposizioni, la sua identità, storicamente plurale, ritorna ad essere una chance, quel crogiolo di popoli che ha saputo pazientemente, con lungiminanza, di tessere i figli di una convivenza, evidentemente, difficilmente alle Genio Slocchi, che ha favorito lo sviluppo di una società aperta e dinamica. Alle 17, a cura dell'associazione Hand Dance Dance, attività per bambini sotto una iurta, tenda mongola, realizzate via Cassi Spalmio. Alle 18, sempre per l'inaugurazione, si è recestato il contenitore sotto la stessa danza, aperto le associazioni sportive. E ancora alle 21, il concerto dei Demonet Pocket. Grazie.